Il Comune di Montorio Albomano ha affidato ufficialmente i servizi di igiene urbana e gestione dei rifiuti alla terra ma ambiente, un passaggio che avviene dopo gli strascichi polemici che hanno interessato la cronaca. Entusiasmo e spirito di collaborazione da parte del Sindaco di Montorio, Fabio Altitonante, e dal Presidente della TEAM, Sergio Saccomandi. Partito un servizio, un'azienda strutturata, un modello organizzativo efficiente. La scelta è stata in base agli interessi di noi montorriesi, dove prima c'era un servizio inefficace, poco trasparente, quasi inesistente, ben pagato. Oggi passiamo a un servizio dove il Comune si impegna con delle risorse importanti, ma chiediamo di più. Lo standard di Montorio è cambiato e quindi le aziende, dalle piccole forniture a una strategica come quella di servizio di igiene urbana, per lavorare con il Comune di Montorio devono innalzare lo stand, devono rispondere a delle esigenze precise. È una testimonianza di tutti i nuovi mezzi, mezzi moderni, alcuni hanno la lancia quindi per pulire anche i marciapiedi, le auto che non si spostano. Ci sarà un miglioramento non solo a Montorio, ma anche e soprattutto in tutte le frazioni che negli ultimi mesi erano totalmente abbandonate dall'azienda precedente. Una scelta da tempo annunciata tra il Comune di Montorio e la Terramo Ambiente, che potrebbe diventare a tempo indeterminato al termine del periodo di sei mesi di reciproca valutazione. Stamattina, sin dalle prime luci dell'alba, i ragazzi erano al lavoro, all'opera. Proveremo in qualche modo a cercare di migliorare per quel che si può la raccolta differenziata, che per noi è un punto di partenza, non di arrivo. Abbiamo istituito un numero verde al quale tutti i cittadini di Montorio possono rivolgersi, perché le difficoltà ci saranno sicuramente, ma noi siamo qui per mitigarle e risolverle insieme a loro.